Qual è stato secondo lei il carisma di padre Ambrosoli, il principale carisma? Quello di unire la sua missione di padre Comboniano, di prete, di evangelizzatore e di medico. Una portava l'altra, una aiutava l'altra, non l'ha mai vissuto come due dimensioni scisse, anzi assolutamente con la stessa convinzione, predicava il Vangelo e lo viveva curando, guarendo migliaia di persone. Per questo credo che sia un vero modello di missionario e di medico. Avete condiviso entrambi la passione per l'Africa? La passione per l'Africa, la passione per un paese sofferente, terribilmente, qual è stato l'Uganda, qual è ancora il nord Uganda, dove effettivamente la difesa della vita è la priorità assoluta e credo che Ambrosoli ci indica la necessità di questo, lo ha fatto con una dedizione, con un'esemplarità poco mediatica e forse proprio per questo ancora più credibile, ancora più vera.